ciao ragazzi e ragazze oggi ho trovato una sorpresa nella cassetta della posta ovvero il catalogo scusate i rumori con le offerte di bottega verde il rumore cibolante che avete sentito sono io che mi sto sistemando in modo più comodo sulla sedia ho trovato il catalogo bottega verde e quindi ho detto perché non farci un video oltretutto come sapete io sono affiliata anche con questa azienda quindi se volete sostenere sia questo canale che il canale a rasole smr potete farlo anche comprando seguendo i link di affiliazione che io metto sotto i video a voi non cambia niente nel senso che non andate a pagare di più il prodotto la differenza è che io avrò una minima percentuale su quello che voi acquistate e quindi insomma se mi volete bene se vi fanno piacere questi video se vi fanno compagnia e avete voglia di acquistare questi prodotti facendolo tramite i miei link affiliata in qualche modo mi date una mano mi sostenete e sono sotto il video giù nell'info box a volte li metto anche nel primo commento in evidenza ma vediamo un po cosa è arrivato bottega verde tutto a 5 euro solo per 10 giorni abbiamo la linea all'argan con sconto 65 75 per cento quindi ad esempio la crema iris del marocco illuminante costa solo 5 euro il che è veramente poco allora di bottega verde io avevo già fatto un video non ricordo se è sempre sul canale o se per qualche motivo è sparito di bottega verde io ho iniziato ad usare solo i prodotti quelli al 100 per cento naturali senza schifezze tra virgolette altri prodotti purtroppo continuano a contenere paradeveni derivati del petrolio eccetera eccetera quindi io fate conto che di bottega verde utilizzo solo ed esclusivamente quei prodotti che non contengono tutti questi derivati poco piacevoli comunque qua abbiamo veramente sconti che vanno anche fino all'ottanta per cento ad esempio vaniglia nera peperosa questa è crema corpo al tiaree che costa solo 5 euro cioè ragazzi è un affarone io poi non so voi ma amo 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 il tiaree purtroppo non credo che faccia parte della linea quella appunto è 100 per cento naturale o de toilette cocco peperosa poi abbiamo la linea all'aloe anche questa prezzi veramente vantaggiosissimi sol sempre estate crema viso idratante auto abbronzante dunque io per gli auto abbronzanti sono molto molto diffidente perché le poche volte che li ho usati avevano quell'effetto giallognolo a macchia e poi quel puzzo di auto abbronzante per cui li ho provati tanti anni fa e adesso non li ho più usati anzi con il fatto che la pelle comunque ha cominciato a sviluppare un po' di macchie sto molto attenta ad usare protezioni alte a non esagerare con l'abbronzatura cioè preferisco rimanere un pochino più bianca e non rischiare di avere ulteriori macchie sulla pelle acido glicolico crema rinnovatrice 5 euro wow ragazzi mi sa che andrò a fare un ordinino sulla bottega verde poi ovviamente userò il mio link affiliato mi pare il minimo dunque set da viaggio sì magari se avessi da andare da qualche parte mi farebbe anche piacere la borsa termica blu elettrico che carina 2 euro e 99 lo zaino graffiti solo 2 euro e 99 no guarda che carino anche questo le lenzuola 2 euro e 99 ma è pazzesco pari ragazzi sì devo andare sul sito assolutamente fare un ordine perché mi sembra che ci siano delle cose super super interessanti allora qua mi dice che ma siccome ho richiesto il catalogo ma l'ho richiesto mesi fa è arrivato solo adesso mi dice che ho le spese di spedizione gratis prezzo regalo fino a due gioielli con cristalli svaroschi prezzo amicizia il tuo grande successo preferito il bracciale nevi mare mania ma con un ordine di 40 euro e gratis un solare a sorpresa con un ordine di 45 euro non sono una nuova cliente perché io già ordinato è però su bottega verde qua carina borsa mare poi io sono rimasta veramente con una penuria di borse estive infinita qua abbiamo retinolo bio plus allora questa marca qua usava anche tantissimi anni fa ragazzi se non fate caso alle mani ho appena tolto lo smalto dalle unghie e sono in attesa di tornare a rifarmi le unghiette dalla mia cara amica che mi fa il semi permanente ogni tanto uso lo smalto normale però in questo momento era sciupato quindi ho preferito toglierlo del tutto perché io sono una che pensa meglio niente smalto piuttosto che lo smalto svecchettato allora qua c'è l'offerta per la retinolo qua ci sono un po di gioiellini a prezzi veramente ridicoli ma io tanto non li uso ecco gratis ecco il bracciale mare mania con ordine 40 euro non ce l'ho la sorpresa ok passiamo al catalogo vero e proprio che mi è arrivato dunque tre prodotti a scelta 1 euro e 99 e tante altre occasioni con sconti 60 estratti di bellezza scrub maschera no vabbè ma costano solo 1 euro e 99 queste cose ma niente ragazzi ecco guardate questa è senza parabeni e senza accessori di formaldeide potrebbe contenere comunque dei penato trolati e dei siliconi e poi non sono così dannosi per la pelle anche se adesso mi è presa un po sta fissa che ho voglia di cose super super naturali abbiamo il latte detergente per il viso 1 euro e 99 tonico crema viso giorno effetto seta gel contorno occhi tutto anno 1 euro e 99 ragazzi non costa niente veramente zero allora makeup mania tanti prodotti da approvare subito matita labbra matita occhi intensa via ragazzi 1 euro e 99 ma non costa niente zero veramente appena ho finito di registrare questo video mi collegherò al sito bottega verde e credo che farò un ordine online perché veramente già sono dei prezzi troppo 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 allettanti e cosi di benessere carite peperosa deodorante iris limone agrumi e menta questi sono deodoranti leggeri da quello che ho capito e costano anche questi pochissimo solo 1 euro e 99 no incredibile se sentite un rumore strano è il vento che sta facendo cigolare la mia tenda da sole allora anche questi sono senza parabeni e senza accessori di formaldeide aloe gel fresco allora il gel aloe questo 90 per cento di succo di aloe io l'ho già ricomprato il succo di aloe della marca eco bio sul giardino dei libri ho provato a farlo anche da sola effettivamente è venuto bene però c'è un lavoro dietro insomma che io non ho voglia di fare ve lo dico proprio chiaro chiaro qua abbiamo tutta la linea per i piedi cioè praticamente in questo catalogo è tutto 1 euro e 99 cioè 2 euro via pazzesco acqua eco oltre ai parabeni accessori formaldeide non ci sono nemmeno oli minerali qua invece no parabeni no coloranti ecco il problema di bottega verde è che bisogna stare molto attenti a leggere perché non hanno molti prodotti senza tutto quello che non piace quindi magari c'è quello che non contiene parabeni ma ha i siliconi cioè il prodotto che non contiene siliconi ma ha i parabeni eccetera eccetera quindi insomma se siate un po fissate o fissati con queste cose vi consiglio di leggere molto molto attentamente quello che comprate effetto lifting allora qua abbiamo senza parabeni e coloranti senza oli minerali e senza accessori di formaldeide e abbiamo le creme effetto lifting 11 e 59 13 e 59 10 e 39 insomma prezzi per carità ottimi ottimi prezzi ottimi linea al goji questo è senza parabeni e senza accessori di formaldeide trattamento visantirughe siero potenziatore latte micellare gel tonico micellare e poi abbiamo la linea amino vita vediamo un po nuova vita la pelle matura e beh questo interessa a me ragazzi crema di giovinezza per le mani protettiva antimacchie e beh so qualcosa delle macchie io sto usando ormai da diversi mesi l'acido oddio l'acido mandelico sulle mani effettivamente non lo sto usando tutti i giorni e poi magari me lo metto e comincio a far cose quindi va via però la macchia che ho sull'arcata sopraccigliare dell'occhio sinistro è migliorata tantissimo con l'applicazione di questo acido mandelico che io acquisto però sul look fantastic se me lo ricordo in fase di montaggio vi metto il link crema viso giorno e notte potenziata anni 60 più no vabbè io ne ho 49 adesso non esageriamo 60 anni qua abbiamo tutte le varie cremine idratanti tutti i prodottini un pochino più giovanili argille di bellezza tutti i tipi di pelle pelle impure o grasse tutti i tipi di pelle maschera detox illuminante maschera purificante opacizzante maschera esfoliante in inverno le uso di più le maschere non so perché ma in estate mi dimentico proprio abbiamo make up correttore fondotinta terra compatta matitone illuminante occhi poi qua abbiamo un po di rossettini all'olio di argan ecco questi non sono senza parabeni e senza eccetera eccetera mascara a lunga ciglia eyeliner e mascara volume extra black linea capelli qua abbiamo la linea per il sole che ormai vabbè ragazzi io sto registrando questo video il 3 di settembre quindi ormai stamani sono andata a camminare un po nell'acqua della piscinotta ma giusto con le gambe perché comincia a non essere già più per quanto mi riguarda stagione da fare il bagno e da stare al sole nell'acqua qua abbiamo lo sconto 60 su tutti i solari ovviamente sono l'ideale se uno va a fine stagione al mare e ancora non li ha comprati è una vastissima c'è un vastissimo assortimento sto vedendo i prezzi sono ottimi bagno doccia dopo sole crema dopo sole burro dopo sole acqua corpo spray solare al cocco non oso immaginare il profumo fantastico che abbia anche qua sono tutti solari a prezzi super buoni e finiamo anche qua sempre con i solari stick solare labbra nutre protegge protezione 30 ragazzi a me sembra ora vi ripeto se siete fissati con l'ecobio e zero schifezze forse bottega verde non è il marchio per voi quindi vi consiglio magari di dare un'occhiata agli altri miei video di acquisti dal giardino dei libri sul quale acquisto appunto prodotti senza pitrolati parabeni conservanti eccetera eccetera però se non vi fate un sacco di fisime e non avete problemi tipo se c'è un po di silicone nella crema credo che sia un ottimo rapporto qualità prezzo vi ricordo appunto che giù sotto il video nell'info box vi metto tutti i vari link che possono essere interessanti sia per bottega verde ma anche link ad altri siti dove io acquisto abitualmente e niente vi saluto e vi do appuntamento a un altro video qui sul mio blog channel oppure sua rasulè asmr un bacione ciao